sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 16 a partire dal 20 ottobre RAE 2 il sabato ci occuperemo di attualità cronaca voci e volti del nostro tempo e fatti dei nostri giorni avremo ospiti ed esperti testimoni e protagonisti a questo importante avremo un telefono speciale il telefono arcobaleno non sarà difficile raggiungerci per dare un colore un suono alle vostre parole e la domenica è la domenica grande festa con musica giochi divertimento perché la domenica è un'altra cosa ma mi ricordo abbastanza benvenuti e grazie di essere qui vi racconto il nostro fine settimana su RAE 2 weekend con raffaella carrà ricomincio da 2 sabato e domenica alle 12 su RAE 2